a ieri. Salgono invece i ricoverati negli altri reparti che raggiungono quota 965 con un aumento di 25 unità. Rispetto al dato di ieri cala anche se di pochissimo il rapporto tra i tamponi effettuati e i positivi rilevati 11,8 per cento per un totale di 9300 nuovi positivi. Per quanto riguarda Bergamo il valore è sempre piuttosto costante 566 i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Continuiamo a parlare di sanità ma andiamo a Paladina per ritornare sul tema dei medici di base che mancano ai cittadini e nel paese della provincia il problema è serio. A Paladina circa 1500 cittadini sono attualmente senza un medico di base. Una serie di pensionamenti e abbandoni da parte dei medici che erano impegnati sul territorio ha generato questo buco che va detto non è certo specifico del paese bergamasco ma riguarda un po' tutta Italia. Questo tuttavia non solleva ATS dalle responsabilità. Proprio ad ATS si è rivolto con una lettera il gruppo politico Paladina Futuro Comune che ha portato alla luce il problema. Noi come gruppo politico, come Futuro Comune abbiamo ricevuto alcune segnalazioni da questo punto di vista e quindi abbiamo ritenuto nostro dovere per dar voce ai cittadini segnalare la situazione ad ATS. A Paladina i medici di base operativi erano tre considerando i 4050 residenti. Poi una di queste ha lasciato ma l'abbandono improvviso non è stato certo un fulmine a ciel sereno. La sofferenza del servizio era già nota da tempo. Questa ulteriore assenza l'ha solo acutizzata in maniera repentina chiaramente perché da un giorno all'altro come ne dicevo 1500 persone si sono trovate senza medico di base. Cittadini e politica hanno chiesto l'intervento del sindaco il quale però come tutti i colleghi ha pochi poteri in questo frangente. Il comunico che appesa la decisione dell'ottoressa Falgari abbiamo subito sollecitato una soluzione adeguata alla gravità del problema sia ad ATS che all'ambito e questo è successo tanto tempo fa. Credo grosso modo più di due mesi fa. L'amministrazione comunale non solo di Paladina ma immagino di tutta Italia non ha l'uopo né competenze né risorse. A livello provinciale intanto si lavora per mettere pezze ai tanti buchi che si sono creati. 25 profili hanno chiuso il ciclo triennale di formazione e ora possono lavorare come medici di base. ATS inoltre ha in programma di accorpare alcune sedi dell'ex guardia medica in modo da evitare lunghi spostamenti ai medici e andare incontro al rifiuto di cento di loro di rinnovare il contratto oltre ovviamente che alle necessità dei bergamaschi. L'abbiamo sentito nel servizio 25 nuovi medici di base che hanno completato la specialistica triennale pronti ad entrare in azione. Sono giovani e quindi si spera che possano portare freschezza sul territorio. Il servizio. 25 nuovi medici di base che saranno da oggi disponibili sul territorio. Il risultato di un percorso durato tre anni ed è arrivato alla consegna dei diplomi nella sede dell'Agenzia per la tutela della salute di Bergamo. Un triennio particolare come ha ricordato Massimo Giupponi direttore generale di ATS Bergamo che ha voluto sottolineare come la formazione sia stata condizionata dalla pandemia. Il ringraziamento particolare per la volontà di rimanere al proprio posto e collaborare attivamente nell'emergenza ma anche di pensare al futuro organizzativo della sanità territoriale profondamente da rifondare. Presente anche Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, che ha rivolto un caloroso messaggio ai neoprofessionisti. L'impegno è importante e difficile ma con la nascita delle case di comunità e mantenendo saldo il rapporto medico-paziente avete davvero la possibilità di costruire la nuova medicina generale. Cambiamo adesso argomento e andiamo a parlare ancora di giustizia con l'ex direttore della fiera di Bergamo che finisce a processo. Era l'estate 2019. Il direttore tecnico della fiera di Bergamo Stefano Cristini trovò alcune cimici installate nell'ufficio e denunciò alla magistratura. Poco dopo capì a chi servivano e soprattutto che le intercettazioni lo riguardavano direttamente. Per i finanzieri 900 mila euro di ammanchi, per il pubblico ministero 500 mila, ma per tutti il reato di peculato, con finte richieste di rimborso carburante alle spalle di una dozzina di ignari colleghi attraverso consulenze fittizie patuite con un paio di presunte società compiacenti. Ci fu l'arresto ai domiciliari ed il sequestro dei beni, un milione e mezzo di risparmi secondo Cristini, somma ingiustificabile secondo gli inquirenti. All'udienza preliminare del prossimo 20 maggio dovranno comparire cinque imputati. Sono l'ex segretario generale di Promoberg Luigi Trigona e l'addetto alla gestione della Cassa Generale Diego Locatelli. Per entrambi l'accusa di aver consentito al direttore di lucrare sui rimborsi e spesa per un totale di quasi 240 mila euro. Poi commercialista di Bergamo Mauro Baggini, ex presidente del collegio sindacale, accusato di favoreggiamento per aver appoggiato Cristini, Trigona e Locatelli nell'alterare le risultanze contabili onde far apparire giustificati i prelievi. Udienza anche per Marco Lanfranchi. Avrebbe fatturato false consulenze per giustificare l'acquisto di biglietti per le partite dell'Atalanta. Ed infine Gianfranco Sibella, addetto alle fissioni pubblicitarie. Ha già ammesso di aver patuito con Cristini un compenso fisso di 1800 euro al mese per fatturare consulenze inesistenti per 241 mila euro. Il restyling dello stadio del Gavis Stadium dove l'Atalanta disputa le sue partite casalinghe che purtroppo va per le lunghe. Settembre, ottobre, forse anche più in là, rischiano un lungo slittamento i lavori alla curva sud dello stadio di Bergamo. Le difficoltà legate ai prezzi delle materie prime, agli approvvigionamenti e ai rincari energetici rendono incerta la programmazione del cantiere. I lavori riguardano l'abbattimento di una parte della curva e la sua ricostruzione, la realizzazione del parcheggio sotterraneo di piazza Lagoesis e il nuovo impianto di illuminazione che raccorda le due curve passando sopra le tribune, la cosiddetta americana. Per quanto riguarda il parcheggio potrebbero esserci delle novità, nel senso che l'Atalanta intenderebbe gestire in autonomia i 280 posti del sotterraneo. Prima erano solo un centinaio, mentre i restanti sarebbero andati, seppur a pagamento, a uso pubblico. Ebbene, i lavori dovevano partire alla fine dello scorso anno, poi sono stati spostati a gennaio 2022, poi a maggio e quindi all'estate. Ora la data slitta ancora, non è stata stabilita ma verosimilmente non si partirà prima dell'autunno. Nel frattempo, in attesa della firma della convenzione con il comune, l'Atalanta ha assicurato all'amministrazione Goli che porterà a termine i lavori entro la primavera del 2024, ovvero prima della scadenza del mandato del sindaco. Altri lavori ma questa volta a seriate, la quale mette già le mani avanti, come abbiamo sentito sulla realizzazione a causa del boom dei prezzi. Però i residenti di Via Paderno possono tirare un sospiro di sollievo. Buone notizie per i residenti di seriate che abitano tra Via Paderno e Via Granger. Entro la fine dell'estate, infatti, il comune con l'appoggio della provincia installerà barriere fonoassorbenti lunghe 280 metri e alte 5 per ridurre il rumore proveniente dall'asse interurbano che corre parallelo. L'importo è pari a 530 mila euro, di cui 80 provengono dalle casse comunali e 450 da quelle della provincia, la quale ha versato attualmente 200 mila euro, mentre la restante parte sarà versata opera compiuta. È un intervento molto importante per la città di seriate perché è già da qualche anno che i residenti della zona avevano avanzato questa richiesta. È un intervento molto importante proprio per migliorare la qualità della vita dei residenti nella zona e è doveroso da parte mia un ringraziamento anche all'ente provincia per il sostanzioso contributo che ha erogato in questa direzione. Il tratto di strada interessato è quello che va dall'incrocio tra via Paderno e via Granger e la curva che porta verso il centro abitato in direzione ospedale, progetto che deve essere ancora realizzato con tutti gli accorgimenti necessari per completare l'opera al meglio. Chiaramente in questa fase faremo attenzione anche al lato estetico in modo di creare delle barriere non troppo impattanti. L'altezza è comunque di 5 metri per una lunghezza di circa 280, quindi è chiaro che dovremo stare attenti anche al lato estetico. La decisione approvata dal Consiglio Comunale è inserita in un pacchetto di opere pubbliche che ha comportato uno spostamento di bilancio da 850 mila euro e che comprende, oltre alle barriere, anche la realizzazione di un nuovo playground al parco vittime della mafia e l'installazione dei sistemi di accumulo relativi agli impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole primarie e Cerioli, Donnizzetti e Rodari. La questione ucraina adesso continua alla corsa di Bergamo per ospitare i profughi e per mandare aiuti. Alzano ha messo in campo un piano coordinato. In Val Seriana un gruppo di accoglienza migranti nato nell'autunno scorso dal coordinamento di cittadini appartenenti a tre realtà del territorio si sta adoperando per l'emergenza legata alla guerra in Ucraina. Le realtà sono Alzano Viva con il gruppo Cittadinanza Attiva, insieme per mano di Nembro e la cooperativa San Martino di Alzano. Fare questo coordinamento e trovarci uniti e unire le nostre forze è stato fondamentale per essere pronti nel momento in cui è successo questo dramma della vicenda ucraina. Il supporto che il coordinamento può dare è di diverso tipo e va dall'affiancamento per le pratiche burocratiche alla raccolta di beni. Prima di tutto un aiuto nelle pratiche burocratiche, scrivere al consulato, scrivere alla questura, inserire nelle scuole, rivolgersi ad ATS, quindi seguiamo un po' questi percorsi. L'altro aiuto che viene è dalla presenza di due psicologhe che in modo volontario fanno dei colloqui al momento dell'accoglienza e poi comunque accompagnano le famiglie, sia le famiglie degli ucraini, sia le famiglie ospitanti. Le unità abitative individuate sono otto, a Bergamo, Alzano, Gazzaniga, Rovetta e Premolo. La cosa più importante per noi è creare dei piccoli nuclei di sostegno di rete ai bisogni di ogni unità abitativa. È il tentativo di creare un'azione di sinergia dove tutti in qualche modo collaborano e si cerca di non disperdere le forze, di non fare un'azione frammentata. E questo lavoro di squadra dà già i primi frutti. Sentiamo la bella storia di Giulia e Polina. Grazie al coordinamento di accoglienza migranti costituitosi ad Alzano Lombardo, Giulia e Polina, mamma quarantenne di Kiev e la figlia adolescente, hanno trovato accoglienza proprio ad Alzano. Ci racconta la loro storia mamma Nina che abita in Italia da anni e che è stata molto felice di riabbracciarle e di vederle al sicuro. Loro sono arrivati il 7 marzo qui a Bergamo, aeroporto da Polonia. E questa famiglia ha dato ospitalità. Da dove sono scappate? Ha scappato da Kiev, perché è cominciato tutti i giorni serena, serena e hanno dormito quattro giorni nel bunker e adesso non funziona niente. Kiev non lavora, non lo so come sopravvivere e scappano tutti. Chi è rimasto là? Chi è rimasto? Il marito e il gatto. E il marito cosa sta facendo? Il marito adesso sta facendo come volontario. chiedono di fare questi sacchi di sasso, quello che serve per la città. Se sono preoccupate, siete preoccupate? Sì, siamo molto preoccupati perché se bombardano, non lo so cosa succede. Rovinano tutto. Non potevate immaginare una cosa del genere? Ma mai, mai immaginato, non lo so come, neanche pensare questo. Siamo stati 70 anni insieme, anche una lingua somiglia, parlare, non lo so cosa lui vuole. Perché è passato 30 anni come Ucraina libera, a lui sempre, Putin sempre pensa insieme. È passato tanto tempo, Ucraina è andata a un'altra strada. E lei lo vede un futuro per i suoi nipoti in Italia o sperate di tornare presto a casa? Adesso pensiamo tornare presto a casa. Sicuramente storie che fanno pensare, che sentite dalle vive voci di chi le ha vissute, insomma, fanno ulteriormente riflettere. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con una bella storia invece e con l'Atalanta. Bentornati alla seconda parte del nostro notiziario, che apriamo con una bellissima iniziativa rivolta ai neonati. Ci racconta tutto nel suo servizio Sharon Bordogni. Un lenzuolo di lino che punta dritto al cuore dei bambini. Sono loro i protagonisti della campagna organizzata dall'Inificio Nazionale di Villa Dalmè, in collaborazione con The Circle Italia Onlus, con l'obiettivo di permettere ai bambini che vivono in condizioni di fragilità economica o in paesi in guerra, di raggiungere il nostro paese per essere accolti e curati. Il progetto Lenzuolino è una campagna di charity che abbiamo associato alla produzione di un filato che è stato realizzato proprio come una volta, tosseminato e coltivato in un terroir speciale in Normandia, dove non è stata utilizzata minimamente chimica. Proprio per via delle qualità di questo filato è stata realizzata una capsule collection di lenzuola per pulle e lettini per andare a supportare tutti i bambini del mondo. Un regalo che fa bene al cuore, per dare un futuro migliore ai bambini fin dalle prime ore di vita. Volevamo andare a supportare due associazioni molto importanti, bambini cardiopatici nel mondo e Fondazione Francesca Rava, e i proventi vengono realmente utilizzati, gli interventi sui bambini che hanno avuto la sfortuna di nascere con danni al cuore, una tutela quindi per tutti i bambini del mondo, quelli che lo ricevono come regalo e che quindi possono avvolgersi da questo caldo e fresco lenzuolino, sia da quelli che possono usufruire degli investimenti nati da questi proventi. Il lenzuolino si può trovare sulla piattaforma Lane Rossi, oppure si può ricevere facendo una donazione ai bambini cardiopatici nel mondo. La pagina sportiva adesso dedicata all'Atalanta è la settimana di pausa per dare spazio alle nazionali, Italia che sarà in campo questa sera con la Macedonia per la semifinale playoff e cercare l'accesso ai mondiali. Ma in casa nera azzurra le bocce non sono certo ferme, tanti aggiornamenti in vista del prossimo turno di campionato. Notizie del mondo Atalanta Partiamo dai tifosi. L'iniziativa promozionale che permette di acquistare un mini abbonamento per le partite contro Napoli, Verona, Salernità ed Empoli a costo agevolato continuerà fino a lunedì 28 marzo. Già 4.800 i pacchetti acquistati. Per ora si conoscono solo due date certe. Contro il Napoli si giocherà il 3 aprile alle 15, mentre la partita con il Verona sarà in programma la sera di Pasquetta, lunedì 18 aprile alle ore 21. Capitolo giocatori. Bogat non ha risposto alla convocazione della Nazionale per guarire dal problema fisico. Sarà disponibile contro il Napoli, così come lo saranno Malinowski e Miranciuk. Gasperini può tornare a sorridere. Sereno anche l'orizzonte Zapata, per lui tempi meno certi, ma sicuramente pronto almeno per il ritorno di Europa League contro l'Ipsia. Infine il grande cuore dei supporter atalantini, il gruppo Key della Corriera, ha raccolto e consegnato a Malinowski ben 20.000 euro per aiutare il popolo ucraino martoriato dalla guerra. Davvero un bel esempio di solidarietà. È il momento delle previsioni meteo. Un saluto e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Giornata di venerdì che vede un robusto anticiclone sull'Europa centrale, garantire stabilità anche sulla nostra penisola. Avremo infatti una giornata di bel tempo, un po' ovunque, con cieli in prevalenza sereni. Vediamo più nel dettaglio la situazione sulla Lombardia. Altra giornata quindi caratterizzata da tempo stabile e asciutto, con cieli in prevalenza sereni e sole protagonista su tutta la regione. Clima primaverile con temperature massime che un po' ovunque toccheranno i 20-21 gradi. Più nello specifico sulla provincia di Bergamo ci attende quindi un'altra giornata caratterizzata da grande stabilità, sole protagonista e ampie aperture del cielo. Temperature massime fino ai 19-20 gradi. Situazione analoga nella giornata di sabato. Altra giornata di bel tempo con ampi spazi soleggiati un po' ovunque. Temperature pressoché stazionarie. La tendenza per i prossimi giorni vedrà bel tempo anche in avvio della prossima settimana, con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare però un possibile peggioramento delle condizioni a partire da mercoledì con l'arrivo della pioggia di cui insomma il nord ha tanto bisogno. Per restare aggiornati però scaricate e consultate l'app gratuita di Trabi Meteo. Non ci sono notizie dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi lascio ai programmi di Seila TV. Per quanto riguarda l'informazione, appuntamento come sempre per domani alle 19.15. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.